Hanno preso il via in questi giorni i lavori per il primo lotto di un grande progetto che vede ADF nuove acque collaborare per realizzare l'Anello Senese, una nuova infrastruttura per l'approvvigionamento idrico delle crete senesi, della Val d'Arbia, della Val di Chiana e del comune di Rapolano Terme. Un intervento atteso da anni che prevede un investimento complessivo di quasi 16 milioni di euro, di cui 5 milioni finanziati dal PNRR, 4 milioni e 400 mila euro dalla regione toscana, 3 milioni e 900 mila euro dal piano nazionale invasi e restante da tariffa. Il primo step che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno collegherà il laghetto 23 fatto dall'ente Acque Umbre Toscane a Pozzo della Chiana nell'Aretino, dove sono state raccolte le acque provenienti dall'invaso di Montedoglio e i territori gestiti da ADF, arrivando fino all'impianto di potabilizzazione in località Quercioni, nel comune senese di Rapolano Terme. In un momento di cambiamenti climatici come questo, io credo che quest'opera pensata molti anni fa e che stiamo realizzando adesso, sia la migliore soluzione per poter fronteggiare una difficoltà come quella che abbiamo di fronte. In più, credo che questo primo tratto di 8 chilometri e mezzo, con un valore di quasi 5 milioni, poi ci sarà un secondo tratto, fa parte di quel tracciato chiamato lato strada dell'acqua, che approvvigionerà Siena e poi gli mitrofi e quindi fornendo ai nostri cittadini un approvvigionamento duale strategico in un momento come questo. Questa collaborazione permetterà di diversificare le fonti di approvvigionamento dei territori interessati, mitigando in questo modo gli effetti delle crisi idriche che si sono ripetute negli ultimi anni. Le aziende toscane dell'acqua sono tra le migliori, diciamo, in Italia e anche qui vediamo qual è la strategia. La strategia è creare delle reti che mettano in comunicazione tutte le risorse esistenti, in modo che in caso di siccità possiamo attivare l'una o l'altra risorsa.